La WMU, l'Organizzazione Meteorologica Internazionale, ha annunciato l'arrivo dopo sette anni di El Nigno, l'evento atmosferico di riscaldamento del Pacifico Tropicale Centrale e Orientale. Il fenomeno provoca generalmente in varie parti del mondo un'impennata delle temperature con caldo record, l'ultima volta nel 2016 facendo registrare un anno da primato. La nota su El Nigno ha lo scopo di lanciare un segnale ai governi del mondo perché prendano le misure adeguate a limitare gli impatti su salute, ecosistemi ed economie. Grazie